Il governo ha cancellato l'esperimento di Kray. E lui usa i Microbot per riprendersi la macchina del teletrasporto. È Kray, il tizio mascherato. Oh no! Baymax, facci uscire da qui! Mira il trasmettitore, dietro la maschera! Baymax! Allora, qual è il piano? È il mio momento. Supersalto! Impatto gravitazionale! Oh, non fa pazzesco! Sul serio, qual è il piano? Prendiamo la maschera. Aspetta, vengo anch'io! Davvero? Vedete qual è il piano? Vedete qual è il piano? Hai voglia di farti un balletto, uomo mascherato? Perché ora ti faccio ballare! Dammi la tua maschera o ti darò un assaggio di questo! E poi quest'altro! Ehi! Sono forte! È tutta qua! Oh, allora non è tutto! Fiamme in arrivo! Oh! No! È finita, Cray Professor Callaghan Ma... L'esplosione? Lei è morto